La centrale Power 8 32 168 ha a bordo 8 ingressi filari a singolo o doppio bilanciamento. Questi ingressi filari possono essere espansi ad altri 128 ingressi filari, per un totale di 136. Le espansioni sono queste. Sono espansioni su bus, quindi qui c'è il bus, e in pratica ci vuole un'espansione per ogni ingresso filare che vogliamo aggiungere. Quindi per esempio qui abbiamo 8 ingressi filari più un nono ingresso filare. In pratica abbiamo qui l'alimentazione, l'AUX e il GND, che è sempre a comune con questo, questo, questo e questo. Quindi questo è AUX, 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 GND, GND, GND. Questi due sono l'alimentazione sia per il sensore che vogliamo alimentare, sia per l'espansione a bus. Poi l'espansione ha 5 fili. Oltre alle due di alimentazione c'è un filo giallo e un filo bianco, che sono per il bus. Quindi questo, il filo giallo, andrà su ZA1 e ZB1. Mentre il filo verde è la zona. Per fare l'espansione su bus, il sensore necessita di soli 3 fili per i sensori che hanno il tamper, quindi in doppio bilanciamento, e di soli 2 fili per i sensori che hanno il contatto magnetico e basta, tipo contatti porta finestra. Qui vediamo un sensore di movimento in doppio bilanciamento, cioè con due contatti, con solo praticamente 3 fili, due di alimentazione e uno della zona, controlliamo sia il contatto di allarme, sia il tamper. Come posizionare la resistenza è scritto dettagliatamente nel manuale. Allora, queste zone come vengono gestite? In pratica, attraverso questi deep switch viene indirizzata la zona, perché le zone in questa centrale sono gestite in questa maniera. Dalla 001 alla 008 sono gli ingressi filari, dalla 009 alla 040 sono i sensori wireless, dalla 041 alla 168 sono le espansioni filari su bus. Quindi, per esempio, tramite questi deep switch possiamo impostare che questa sia la zona 041. Comunque questi deep switch ve le mando già configurate, invece scrivo sopra il numero della zona. Attraverso il primo deep switch possiamo dire se il sensore che andiamo a posizionare sarà a singolo o doppio bilanciamento. Singolo bilanciamento è solo con una resistenza di fine linea, quindi contatti magnetici, porta finestra. Doppio bilanciamento, doppia resistenza per i sensori tipo di movimento, oppure tutti quei sensori che hanno bisogno del controllo del tamper. Quindi, una volta installata l'espansione su bus, naturalmente quando si fa l'installazione la centrale deve essere completamente spinta, altrimenti rischiamo di bruciarla. Quindi, dopo aver installato questi quattro fili, bisogna portare al sensore solo tre fili. Due da alimentazione, che le possiamo prendere sempre benissimo qui, oppure qui, oppure qui. Più il terzo contatto, che è quello della zona. Poi, bisogna, prima di tutto, abilitare l'espansione su bus. Quindi, andiamo in programmazione con il codice installatore, asterisco 1, 2, 3, 4, 5, cancelletto. Andiamo nel menu 8, espansioni. Sotto menu 2, espansione porta seriale. E, di default e disabilitato, l'abilitiamo. Una volta abilitata, le espansioni su bus sono tutte abilitate. Poi, bisogna andare nel menu 6, che sarebbero le zone, e abilitare la zona che abbiamo installato, perché le zone dalla 041 alla 168 sono disabilitate di default. Quindi, tipo zona, andiamo nella zona 041, è esclusa di default, e la mettiamo come la vogliamo noi, per esempio, ritardata, oppure parziale, oppure totale. In questo caso, un sensore di movimento, la mettiamo come 3, totale. Poi, possiamo dargli anche un nome a questo sensore, per esempio, zona 041, e le diamo il nome PIR, o se no, PIR SALA. Ecco qua, PIR SALA. Quindi, a questo punto, abbiamo abilitato l'espansione su bus, che basta farlo una volta sola. Poi, abbiamo, gli abbiamo detto che la zona 41 esiste, quindi non è più esclusa, ma esiste ed è ad inserimento totale. E poi, abbiamo dato un nome alla zona. Usciamo dal menu. In questo caso, quando il sensore farà un rilevamento, verrà scritto guasto area 1, e il numero del sensore. Quindi, area 1 disinserita, guasto area 1, e poi verrà scritto il nome del sensore. Praticamente che si è scritto PIR SALA.